E' stato inaugurato martedì 20 dicembre l'anno accademico 2022-2023 dell'UNIDAV, l'Università Telematica Leonardo da Vinci. La cerimonia, che si è svolta presso la sede dell'Ateneo a Torrevecchia Teatina, è stata l'occasione per presentare i nuovi corsi di laurea e annunciare gli importanti traguardi raggiunti attraverso il rilancio dell'Università, che nell'ultimo periodo ha notevolmente incrementato il numero di iscritti, come annunciato dal Rettore dell'UNIDAV, Giampiero Di Plinio. Noi siamo riusciti a decuplicare il numero degli iscritti grazie al lavoro incredibile che è la nuova Presidente che è entrata in funzione da metà del 2021 e poi ha voluto chiamare me come Rettore, ci siamo messi a lavorare tantissimo, siamo riusciti a decuplicare gli iscritti, a fare un nuovo corso di laurea e a fare un dottorato di ricerca utilizzando e vincendo dei fondi PNRR destinati ai dottorati. Il dottorato si chiama Digital Transition e Innovation nell'ambito della salute. Quindi noi siamo non solo soddisfatti ma siamo orgogliosi dei risultati fino ai raggiunti, ma ovviamente non ci fermiamo qui, abbiamo ancora tanto lavoro da fare. In quest'ultimo anno e mezzo noi siamo riusciti, anche sul piano strettamente finanziario, da un bilancio in passivo notevole nel 2021 a un bilancio inattivo nel 2022. Oltre a quelli che dicevo prima, risultati accademici, risultati amministrativi, organizzativi interni, maggiore collaborazione con l'annunzio grazie al Rettore Caputi. Tra le novità, oltre ai tre corsi di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, giurisprudenza e scienze dell'economia, anche un dottorato in ambito sanitario che insieme a master e corsi di alta formazione incrementa il paniere dell'offerta della Da Vinci, come sottolineato da Federica Chiavaroli, presidente dell'Unidav. È un giorno molto importante per Unidav, c'è l'inaugurazione del nostro anno accademico, un anno accademico segnato da una decisa ripresa e un deciso rilancio della nostra università telematica. Unidav è il braccio telematico dell'università d'annunzio e quindi è per me un grande orgoglio poterla presiedere e poterla rilanciare attraverso questi progetti che abbiamo messo in campo. Abbiamo tre corsi di laurea, l'università telematica è un'università flessibile che consente di studiare in qualsiasi momento e quando si preferisce, quindi è adatta a tutti, soprattutto a chi ha già un lavoro. Abbiamo scoperto la didattica a distanza con il Covid e quindi oggi Unidav è pronta per tutti coloro che vogliono garantirsi un ottimo futuro.